Oggi vi consiglio un'ottima applicazione che permette di ibernare le applicazioni. Questo è il miglior modo per ridurre il carico del processore e di ridurre l'utilizzo di memoria RAM. Infatti ci sono molte applicazioni che non fanno altro che anche alla chiusura di continuare a funzionare in background. Per esempio come vediamo qui questi due giochi funzionano sempre in background e quindi consumano risorse proprio per controllare gli aggiornamenti e per mandare notifiche delle pubblicità. Ovviamente a noi non ci interessa ricevere le notifiche delle pubblicità né di controllare gli aggiornamenti. Quindi possiamo ibernare le due applicazioni in modo che ci saranno aggiornamenti e consumo di risorse solo a loro avvio. Mentre quando usciremo tali applicazioni saranno ibernate da GreenFi. Ovviamente non vi consiglio di ibernare applicazioni come Facebook proprio perché non funzioneranno più le notifiche, gli aggiornamenti, gli stati e tutto il resto. Ma vi consiglio di ibernare applicazioni quali giochi e programmi di cui non ne fate un continuo uso. Maggiori info e il link a Play Store lo trovate nel link in descrizione. Per qualsiasi problema lasciate un commento qui o nell'articolo originale. Spero che l'applicazione sia di vostro aiuto.